Non c'è pace per il parcheggio Arena. Dopo essere stata per anni lasciata nel degrado e preda dei vandali da diversi mesi, la struttura del centro storico sembrava aver trovato un equilibrio con la gestione in aus della Gelas. Da inizio anno però le cose sono cambiate radicalmente. Dal 1 gennaio gli uomini della Gelas che gestivano il parcheggio Arena ne avevano cura, non si occupano più della struttura, anche se c'è una proroga fino al 31 marzo. Purtroppo la municipalizzata non ha gli uomini per mantenerli qui all'interno della struttura e adesso al parcheggio Arena sono tornati i vandali e gli sporcaccioni. L'ennesimo atto vandalico di pochissimi giorni fa, quando un gruppo di ragazzi incurante dell'impianto di videosorveglianza, che comunque è tuttora attivo, ha distrutto parte dell'impianto di illuminazione del piano meno uno del parcheggio. Vedete questo è l'impianto elettrico, sono i cavi e i tubi dell'impianto elettrico che sono stati completamente divelti in buona parte del parcheggio, come vedete, fino alla centralina, completamente strappati e gettati a terra. Ma di piccoli danneggiamenti nel parcheggio ce ne sono anche altri. Essere presi in mira, oltre agli impianti, anche gli ascensori, acquistata di velta la protezione in metallo, è che adesso sono tornati ad essere un pericolo. Ma oltre ai vandali, naturalmente, sono tornati anche gli sporcaccioni, che ogni giorno trasformano il parcheggio nella loro personale discarica. In tutti i piani sono visibili i resti delle cene fast food dei tanti ragazzi che la sera frequentano il parcheggio e che spesso si cimentano anche in evoluzioni pericolose con i loro motorini, più volte segnalate senza esito dai residenti che abitano accanto alla struttura. E nel parcheggio si trova davvero qualsiasi cosa, anche le più impensabili. E come vedete, qui al parcheggio Arena si trova davvero di tutto. Qui c'è una borsa, probabilmente di un corriere, con all'interno diverse buste. E guardate, sono fatture telefoniche di ogni tipo, di gestori telefonici diversi, dalla Wind3 alla Team, ma anche Unipolsai. Tutte fatture che non verranno mai recapitate ai destinatari e che sono state abbandonate qui. Come vedete, ce ne sono davvero tantissime. Un problema è quello dell'abbandono del parcheggio, legato soprattutto all'addio degli uomini della Ghella. Basta che l'amministrazione adesso starebbe cercando di risolvere in tempi brevi. Il problema della Ghella è sempre stato sostenuto dall'amministratore, è molto corretto. La Ghella non ha il personale, anche il personale che era adibito presso il parcheggio Arena è andato in pensione, non ha le unità operative sufficienti per garantire il servizio. L'ha sempre detto, l'ha sempre sostenuto e per questo ci siamo adoperati come ufficio del Corpo della Polizia Municipale ad affrontare una gara nel più breve tempo possibile, per questo ci siamo anche riusciti. A breve avremo la ditta che ci occuperà di questo servizio. La gara dovrebbe essere espletata già questo giovedì. Nel frattempo il controllo al momento è in capo al settore Polizia Municipale. L'assessore Licata condanna in ogni caso chi continua a non mostrare rispetto per la cosa pubblica e garantisce interventi immediati. È chiaro che forse la sera molti si divertono qui a, come dire, non solo a vandalizzare, ma a tenere sporco una struttura che è una struttura della città, dei cittadini. Deve essere sincero, noi condanniamo non solo gli atti vandalici, ma condanniamo quegli atti che procurano sporcizie contro il decoro urbano. Da questo punto di vista io mi sono premurato a chiamare la società Tecra per poter venire a fare questa pulizia straordinaria all'interno del parcheggio. Possibilmente spero che verranno anche oggi a svolgere questo servizio. È evidente che non ci aspettavamo che già nel giro di pochi giorni potessero cadere questi atti. L'unica cosa che noi stiamo facendo è dare il servizio nel più breve tempo possibile affinché questa struttura sia nuovamente idonea e garantire un servizio anche efficiente per i cittadini. Da questo punto di vista io sono qui per questo.